Numerosi fendenti assestati con un coltello prima al polmone e poi all'intestino con l'intento di uccidere la compagna, le urla di lei che in braccia aveva anche la figlia, quindi la fuga per le vie del paese nel tentativo di dileguarsi. A Tuoro sul Trasimeno, nella notte tra giovedì e venerdì, erano circa le tre, si è consumato l'ennesimo fatto violento nei confronti di una donna che al momento è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Il protagonista è un 34enne di origini marocchine che, al culmine di una lite per la fine della relazione con la propria compagna, si è avventato su di lei colpendola ripetutamente con il coltello. La donna, tentato di difendersi, in braccio aveva la figlia di soli cinque anni che è rimasta ferita seppur in modo non grave. L'aggressore è fuggito quando un vicino, che aveva udito le urla della donna della notte, ha allertato il 118 e da lì carabinieri di Città della Pieve. Sono stati loro, insieme al personale della compagnia di intervento operativo del battaglione toscana di Firenze, a rintracciare l'uomo bloccandolo nel centro abitato con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue. Attualmente si trova in stato di arresto per i reati di tentato omicidio nei confronti della compagna e lesioni gravissime cagionate alla figlia. Sia la donna che la bambina invece si trovano in ospedale a Perugia, sottoposta alla prima a un delicato intervento chirurgico richiesto dalle gravi lesioni riportate dall'emorragia. La bambina, che non versa in pericolo di vita, è stata trasportata al pronto soccorso pediatrico perugino.